...permente per scarsa informazione all'uso, o anche solo per motivi economici. Ho constatato che lo Statuto Comunale, il titolo 2, partecipazione popolare, capo, primo, associazionismo e partecipazione, mi chiamo espressamente all'articolo 60, la valorizzazione e la promozione della partecipazione dei cittadini, di associazioni, e l'informazione è un pilastro fondamentale per conseguire il detto fine. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta che si impegnino a attivare gli uffici per posti e installare alcune bachette informative pubbliche posizionate in zone visibili e di facile accesso, dove il Comune stesso, così come anche altri chiedenti, movimenti o partiti politici, associazioni e comitati, possono informare la cittadinanza sulle proprie attività, iniziative, ero eventi e lo scopo di diffondere sul territorio un'informazione capillare e utile alla cittadinanza. 2. Attivare gli uffici per posti e l'organizzazione di una bachette informativa virtuale sul sito istituzionale del Comune a disposizione di movimenti o partiti politici, associazioni o comitati, che ne faccia richiesta, con i relativi link che rimandano i spazi concessi e che ne fanno richiesta. 3. Realizzare un regolamento con requisiti e modalità propria di utilizzo per la concessione delle chiavi delle bachette fisiche e degli spazi virtuali agli avventi di tutto. 3. Spero velocemente per l'obiettivo, ovviamente, come in tante altre occasioni in cui abbiamo fatto la proposta, è quello di aiutare il cittadino a partecipare alla vita comunale. L'idea di avere delle bachette, queste imposte fisiche in cui il cittadino, chiunque, possa passare e vedere quanto sta succedendo sul proprio territorio, quanto stanno facendo le associazioni o da partite o movimenti politici, è sicuro un aiuto forte che anche uno spazio magari dedicato sul sito del Comune. L'obiettivo finale è cercare di ampliare sempre di più la diffusione dell'attività che vengono svolte sul territorio. Grazie, Consigliere Buagnetti. Se ci sono interventi, vi chiamo per la discussione. Consigliere Buagnetti. Grazie. Ti sento, come vorrei dire, dopo averci provato un po' per motivarlo, che vederci oggi votare questa cosa, che impegna all'installazione delle bachette, senza risorse a biancio, non sarebbe comunque corretto. Andreremo a dire, si, installiamo le bachette con questa mozione, forno a terra, tra nove a me ne si coseguano niente, giustamente, tra правile che ci uscima l'introduzione, verrete che le staglie non le staglie, e le minga, anche perché non è che sono così pochi, perché non costano già di loro poco, se ne vuoi, con un vetro abbastanza intangibile, con la chiave, con la serratura, l'installazione, il pallo, il cento armato sotto per installarlo, insomma, sembra anche a volata, ma non costano così poco. Seconda cosa, i costi che potrebbero subentrare dopo, vandalismi, mica vandalismi, quindi non è che fare un progetto un po' più corposo, ma dai, sperimentaci di più, ma evitando di sperimentaci dopo, e quindi mettendo giù un progetto, magari a fine anni, che sarà lo prossimo, per il successivo bilancio. Prima cosa. Seconda cosa, qua, farò un po' di più come i fratelli di Italia, la vedo meno per la situazione dei comitati, ma la vedo più una cosa da rivolgersi solo ai gruppi consigliari che oggi non hanno spazio. Perché? Perché comunque le associazioni hanno praticamente tutte già qualche incertivo, qualche luogo, qualche sala, qualche struttura sportiva, correlativa a patica, eccetera, eccetera, e soprattutto rientra vedo, questo è un po' di usare un termine forte, ma è scorretto, però che sicuramente aiuta maggiormente a capire, una sorta di indecentività nei confronti dell'appalto che oggi l'amministrazione comunale ha, nei confronti della società, che risponde l'imposta per le pubbliche affissioni e pubblicità. Ok? Se io vado a sgravare qualcosa, è poca roba, capisco dalla faccia di Zini, però nell'emonia del contratto e della gara sarebbe andare a vedere cosa prevede per queste situazioni, prima di dotare di una cosa gratuita. Per quanto riguarda le informazioni, che informatica virtuale sul sito istituzionale, non le dico di no, voglio vedere cosa fanno gli altri comuni, perché? Perché mi risulta che nella linea equida Agid, il sito web è istituzionale. Dare una bacheca, che se ne pubblicano sia la città di associazioni, forse è un po' forzato. Già oggi comunque tutto quello che riguarda le associazioni è pubblicato, nel momento in cui c'è un patrocino, c'è la notizia del nostro sito su Facebook, che l'evento c'è. La differenza rispetto a quello che le propone è che ti darei coniuso a una pasta per andare a saggiornare, che però, dal punto di vista delle riguide Agid non la vedo così legittima. Però, per il suggerimento, magari in fase di aggiudicazione della prossima gara, si può studiare, si può studiare qualcosa. Non sto a prendere in giro, mi seguo a niente di dire la mozione, tanto so che giustamente, e politicamente, le cittime, perché se si sta, la persegue, noi purtroppo stasera saremmo contrari, per lo semplice fatto che ad oggi non avremo le risorse per dare seguito all'impegno che ci chiede questa mozione. Ci sono altri interventi? Io ho visto nessuno su quale consigliere Gognetti. Sì, ripeto quanto, alla fine è stato detto prima dall'assessore, cioè c'è stata comunque una commissione in cui si era parlato in un certo senso, quindi si porta alcune obiezioni, visto che andavano in senso contrario a quanto è stato detto in commissione, potevate anche dire un attimino prima, così ne parlavamo. Sul discorso del sito comunale non è obbligatorio dare un tento in un appassio, come è stato suggerito in commissione, la pacheca. Noi abbiamo proposto l'utilizzo di una pacheca personale, per cui si dava le chiavi al partito, all'associazione, ma in commissione si era detto che non era vincolante comunque come proposta e si poteva tranquillamente fare le proposte dentro le pacheche comuni in gestione, appunto una pacheca comune in gestione al comune. La stessa cosa vale per il sito, la pagina, la pacheca virtuale, può essere completamente gestita dal comune, quindi questi sono discorsi tecnici. sul discorso era stato selevato dal consigliere Borsani il discorso dei costi eventuali di affissione, per cui anche questa è una cosa che si può andare a ragionare sul regolamento e non tanto sulla funzione, per cui insomma mi trovo un po' spiazzato, anche perché durante la commissione il ragionamento è andato abbastanza in senso opposto. Quindi non so, adesso sinceramente un po' tutte le proposte che portano, aiutano il cittadino a conoscere, a partecipare al comune, all'attività comunale, per un motivo o per l'altro vengono abbocciate, non so bene perché, per come, ma alla fine a questo punto la domanda diretta è ma visto che tutte le proposte di partecipazione vengono abbocciate, però fatela voi, ma il proposto di partecipazione per l'Umbra, il consiglio comunale è così da sei anni. Al BGT ha partecipato, quante persone ha lavorato nel BGT? solo persone che avevano interessi diretti nelle variazioni che avrete fatto, più le 23 proposte arrivate da un percorso partecipativo che abbiamo avviato noi, tramite il comitato. Quindi se le nostre proposte non vi piacciono, perché alla fine qua cominciano a diventare un po' troppe le proposte sulla partecipazione che vengono abbocciate, fate qualcosa di voi, fate qualcosa di vostro, per aiutare la partecipazione. Qua sul discorso dei soldi è sicuramente comunque presentato immediatamente un emendamento al bilancio che andrà in approvazione, a breve, però insomma penso che mi sembra un po' se si vogliono mettere dei soldi bisogna mettere soprattutto per i cittadini, per aiutare a partecipare alla vita comunale, visto che la maggior parte delle volte poi siete voi qui a lamentarli delle notizie non proprio corrette che escono, che arrivano all'orecchio del cittadino. La bacheca è un modo molto facile, molto diretto, per arrivare alle persone e dargli informazione anche più corretta, anche da parte vostra. quindi aiutare l'informazione è sicuramente una cosa che penso che stia fuori. Consiglio che vi faccio? Prima una battuta sulle notizie non corrette, mi risulta che sia solo una testata che la notizia non corrette, perché al contrario di andare a cercare la cronaca locale e riportare i fatti come sono, va a cercare i tossici con le notizie che interessano magari a pochi privati, mettosi articoli su, questioni urbanistiche di decente pubblicazione e non di cose di interesse generale, ma quasi tutte le altre testate mi risulta che sappiano in gran buona misura prendere quello che voglio e si dichiara e riportarlo. Poi altri pensano di fare dell'altro giornalismo sbagliando e infatti mi risulta che anche le statistiche di vendita su questa testata cominciano anche a parlare chiaro. I cittadini capiscono chi dice quello che veramente ha detto Pagnetti, quello che veramente ha detto Pazzini, e chi invece c'ha l'ansia nervosa in quel come se scrivesse per le state nazionali platinate. Aperta e chiusa la parentesi. Tutte queste iniziative sulle trasparenze, a parte che non è uno secco, questo è proprio un'essenza tecnica che mi piace. Prima ancora che fosse invenzione e un corpo di battaglia dei grini, quando Grillo ancora faceva il comico, io studiavo ancora e facevo politica da poco tempo, tutte le stelle già ce l'avevamo anche io. Il problema è che facendo un po' politica e soprattutto da quando ho la fortuna, il privilegio, l'onore, la maniera di fare la maggioranza, sono un po' disegnoso. Perché? Perché la gente, la partecipazione delle persone avviene nel momento topico della consultazione elettorale. Finito. In tutto il resto è difficilissimo e complicatissimo col progetto. Sono stato, un dato su tutti, me ne potrei citare 46.000, sono stato sabato all'opente dell'asilo nido, c'erano 26-27 coppie, quasi 20 le conoscevo, sono indiettivo ormai, erano quasi tutti lo scritti, tutti, non ti dico gran parli, tutti, tutti, mi hanno detto per fortuna che l'altro chiede che le condiviso su Facebook se non tanto lo sapevo, c'erano i manifesti 50, tra valente e valiera da un mese. Quindi, non è la bachiega che sposta, ok? Anzi, probabilmente non sposta niente, la gente non legge. Ma, anche persone vicine riccare stasera c'è il consiglio comunale, ah, non lo sapevo, non ci sei, no, c'è il consiglio comunale, ma poi per l'interno tutti i giorni in fiscazione c'è il marito che non lo ripeto. Tutti. Quindi, è veramente difficile far partecipare, si partecipa quando c'è l'interesse diretto, ma non è brutta questa cosa, anzi, vuol dire che quando si è spronati, quando ci siete coinvolti, si vuole venire. Consigliere Zini, prego. Ah, non mi hanno disforzato, partecipare di creazione che ovviamente siamo favoribili, una volta c'era vari informali perché va a tutti i gruppi politici di poter dare l'informazione in quello di fare l'amministrazione, anche dare la spazio a tutti i gruppi politici. Oggi c'è una pagina del giornale adesso, non abbiamo ancora capito se è quanto costo l'amministrazione e in ogni caso il gruppo potrebbe essere anche, se c'era più interesse, dare una pubblicazione a Martimiro di me, invece, quando la pagina c'era il giornale, c'erano i soldi per fare queste marchette, c'erano i soldi per fare l'intervento sul sito e se usavano i contenuti dei copercianti mettendo questo utilizzato per gli spazi. È vero che molta gente non legge, dipende sempre di quale fascia di età ci rilogiamo. Quante anni una ragazza usa internet, l'anziano legge il modifesto o legge il giornale che gli arriva a casa. Poi, questo non vuol dire che sei fumato bene perché la partecipazione è come dicevamo anche noi di ricordare l'amministrazione che solo quando c'è l'interesse diretto le elezioni o un po' le varie di trucca di rettanti. Ma questo è classico, cioè, non è che di Stato capire questo. E sta per fatto che non dicevamo niente, cominciò a essere un po' difficoltoso, cioè, facciamo i soldi voltali può portare un po' posto iniziative, costruttive, no, poi c'è sempre il muro da per davanti può diventare si fa un po' fatica, si prende atto. Prima mi ha detto ma non stiamo dicendo no perché vogliono dire no, ma solo un po' ma non si monta politicamente per una posizione. Tutto quello che puoi dire, eh, ma l'ho fatto perché no, hai portato no, se ti arrivi a base, hai portato no, se vuoi dissi, se ti arrivi a base, è portato sì, ma per caso si mette, cittadini, la politica, sostanzialmente, intanto di sentire le persone che si rafforano sui mette, perché spesso sappia sentite di, e sì, la legge sarebbe giusta, però, la legge sarebbe giusta fare, vedete, a livello nazionale, però, è questo, c'è questo problema, c'è questa, l'oggetto di questo si sta andando. Vogliamo fare le valutie, sì o no? In un modo, in un momento di soldi, si trova, la gestione, c'è il regolamento, si viene utilizzato il regolamento, basta mettere in fondo la gestione e la regolamentare, perché è giusto regolamentare, perché poi sennò diventa una cosa non gestita, che non ha nessun valore, non può che nessuno l'ho raggiunto. Poi no, io ho la lista, però, se ho visto, ho detto, sono d'accordo, è giusto dare spazio. L'associazione, è vero che hanno le loro sedi, ma a parte i loro soci iscritti direttamente, poi ci vedono fuori, non ripetono. E, da, neanche poi i manifesti, anzi i soldi che le associazioni iscrittono e hanno sentito fatica anche loro di trovare persone volontarie, lo iscrivo, del danno, le loro fonti. perché è da chi si c'è. Perciò, se invitiamo questo progetto a sia del lente, sia, magari da un'etrica, 150, è vasta, una da Varello, una da Valera, e tal, è un qualche cosa in più al servizio al cittadino. Siamo. Perciò, andiamo a te con il nostro. Consigliere di parte, comunque, voglio rispondere al consigliere Agnetti. Justamente in commissione, come tu hai detto, noi avremmo detto che dobbiamo discutere questa situazione e nessuno ha detto né no, né sì. Penso che, diciamo, è visto anche te, come il belletto, Figini che ha anche detto che c'è dietro un discorso anche finanziario da mettere in bilancio. Non è che una risposta non secco e non è che non accettiamo la tua proposta. Questo è da chiarire. poi voglio rispondere a Zini, al consigliere, che automaticamente io penso che se si consultassero anche con consigliere Corsani è stato proprio uno, lui, degli attetici a dire giustamente il problema ma che è che le affissioni, di come metterle giù, il costo e tutto quanto. Perciò voglio rispondere sempre a te. Cioè, se la cosa deve essere fatta viene anche dispossa e non è che noi non accettiamo però c'è anche da dire una cosa se tutto questo tu ti guardi sempre che noi non prendiamo atto non è neanche giusto. Cioè, sì, hai detto così, eh no, hai detto così, tu lo dici nel modo tuo mi ha detto così. Giustamente, eh, mi dispiace, forse io l'ho capito male, ma è così. Però, io dico, tra di noi siamo abituati a parlarci e a discutere questo che intendo però poi se il resto può avvenire in un altro modo mi dispiace. Io non è che è un osseco per consigliere Guagnetti perché la sua proposta è bella come idea e tutto. Però, non gli è stato detto ne è un osseco e non lo si farà. Si vedrà in futuro. Punto. Ma non è che non accettiamo la proposta. Grazie. Consigliere, la mano. Sì, ci tenevo anch'io dire al collega Guagnetti che la proposta ovunque non è malpaggia, anzi, il nostro lotto contrario non è perché vogliamo portare il porto. Effettivamente ci sono questi nomi in qua. È un o alcun parziale, diciamo, un omitano. Non rivedremo. E magari abbiamo dubito prima di protocollare. Vedete, magari ne possiamo anche parlarne prima. Magari riusciamo a vedere come fare, cosa fare per aiutare grazie. No, Assolutamente. Va bene, sul parziale prima, beh, tra chi è che si può fare, se è stato diventato un programma e li porto avanti quel programma lì. in un altro modo che c'è il frattempo. No, capito, nel senso c'era tempo per modificarla, non si sa non di poi. Iniziavo lo schieno in un altro modo, ma che c'era tutto il tempo per modificarla, non è una cosa così complicata. Poi c'è sempre un regolamento dietro che si può fare. Sul discorso dei costi poi si può che ragionare mettere una striscia in basso la pachetta con qualche pubblicità che nel tempo mano a mano qualcosa si si recupera un piccolo contributo da parte di chi vuole esporre il minimo contributo insomma di cose che possono discutere si può parlare poi durante la commissione io avevo chiesto un'indicazione e quindi mi avevo basato sull'indicazione di che se andavate favorevole poi è legittimo anche cambiare idea per voi però c'è l'idea buona sì sì no ok comunque comunque voglio solo rispondere a queste due ultime cose dette dagli altri consiglieri per i tutti i colleghi perché sono cose un po' che si possono facilmente superare insomma credo che poi saremo qua a picchiare il pugno se dentro un mese non ci sono i pachetti insomma si può ragionare tranquillamente se c'è un imponamento da fare quindi poi mi sembra non mi sembrano problemi così importanti per non votare questa nozione che è grazie consigliere senso non ho detto che non prendete altro non ho detto che non prendete altro ma ho detto che non prendete altro ma ho detto che non prendete altro io prendo altro con la vostra decisione ma questo non significa non prendete altro prendete una concezione che si potete no le loro ragioni che era stato presentato c'erano i temi tecnici che evitavano che modificavano si voleva portare a casa avevano fatto noi gli evitamenti su un regolamento della trae che se lo vedete era un attivino più complesso della loro ragione presentata in 5 settembre come stanno in Italia non ci paghiamo infatti ho detto la base di tutto questo non è me che arrivi a casa rivederci si rimanda in tutto la gestione basta aggiungere la regola in fondo si rimanda in tutto la gestione che regolamenti dovrà vedate quella commissione sta tutto ma stava questo ma il regolamento mi ha fatto discusso con i tempi non lunghi tranquillamente cioè poi c'è l'unità si è discusso assolutamente se si vuole trovare la soluzione si trova se non si vuole si vuole fare è legittimo il vostro punto il diritto è troppo però non è lì è così ma no sono già stili grazie se non ci sono determinati è chiaro cosa la discussione passiamo le dichiarazioni di voto capogruppo ma niente l'ultima cosa sul discorso della partecipazione dei cittadini poi il GTI partecipativo ha dimostrato il contrario purtroppo i cittadini non partecipano perché da anni c'è il deserto ci sono stufi delle politiche non in particolare di Varetto ma in generale c'è un distatto dalla politica tale che è difficile come tornare a coltivare un terreno dopo 30 anni che si è neanche bagnato quindi è complicato però quando si è dato uno strumento i risultati si sono stati ed è evidente sotto gli occhi di tutti che c'è stato il risultato quindi comunque il voto è ovviamente favoribile capogruppo Zini favoribile capogruppo Navarra momentaneo non è contrario capogruppo Vini si è arrivato poi intervinto con quello di si è la mozione in conferenza di capogruppo aveva un'atticità di interesse e anche una risoluzione partecipata quindi vabbè l'idea sicuramente buona poi vabbè siamo poi scontrati con un po' l'esigenza il bilancio e tutti i soliti problemi poi in effetti il costo per il rapporto di caccia spesa magari non è avanti giudissimo per un'iniziativa del genere comunque vabbè siamo contrari però come è detto che sia una decisione politica anche questa magari si può riuscire a trovare un'alternativa essendo appunto la decisione nostra politica di adesso tra le seguite dei partiti che si può trovare una funzione senza pensare sulle casse del comune comunque è quella di contrarre capo gruppo di Bani se un tempo riguardi per noi non è un no secolo è una cosa che verrà valutata e discuteremo e prenderemo anche di questa proposta giustamente adesso come adesso per un discorso politico c'è una registrazione che deve tenere dei conti e sostanzialmente a Milano non è stato parcolato e noi siamo contrari quindi votazione della mozione chi è favorevole chi è contrario chi si astiene quindi con 12 voti contrari 5 voti favorevoli di consiglieri guagnetti teston franzone zini borsani nessun punto di astensione la mozione è respinta con questo punto seguiremo il consiglio popolare ringrazio il sindaco la giunta il consiglio le vede popolari e il pubblico di capito buonasera grazie grazie grazie